Ciao e bentornati alla nuova video recensione del canale JustinApple, io sono Justin e oggi vi voglio presentare un'app per tracciare praticamente tutto. Situazione improbabile e sicuramente non esiste un'app per questo. Oppure no. Trachit potrà segnare il tutto, semplicemente perché sarete voi a decidere unità di misura e scopo del grafico finale. Non amo solitamente applicazioni che non hanno uno scopo ben definito, ma devo ammettere che alle volte è talmente impossibile prevedere ciò che l'utente vorrà tracciare che lasciare che sia l'utente stesso a creare la propria personale app è qualcosa di geniale. In pochi semplicissimi passi avremo creato il nostro grafico e attraverso i comodi pulsanti più e meno potremo decidere di aumentare di uno o sottrarre uno al nostro conteggio. È anche possibile ovviamente in caso di errore o improvviso o imprevisto modificare a mano tale numero. Insomma, se dovete tracciare ogni elemento della vostra vita, Trachit vi verrà in soccorso. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube, così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione. Grazie. Grazie.